Noi non siamo una multinazionale, ci definiamo un gruppo multiregionale internazionale, siamo in alcuni posti in giro per il mondo, focalizzati su cemento, calcestruzzo e aggregati naturali, soprattutto cemento. Produciamo da sempre un'azienda familiare, qua è del Casalese, la famiglia Buzzi, proviene dal merging fra Buzzi e Unicem, ha più di 100 anni come attività imprenditoriale e ha quindi una visione a lungo termine dell'impresa. Ci piacerebbe considerarla con un management dedicato che opera in ottica di sviluppo sostenibile con strutture produttive di alta qualità ed ecologicamente compatibili. Perseguiamo la creazione del valore grazie a un profondo e sperimentato know-how e all'efficienza operativa. Per quanto riguarda invece il tema della sostenibilità, è importante far rilevare e dare una misura di qual è il nostro impatto ambientale e sociale. La sostenibilità nel nostro progetto, così come l'intendimento generale, deve basarsi sui tre pilastri, appunto non soltanto quello economico ma anche quello sociale e quello ambientale. Quindi noi come azienda, come gruppo, dobbiamo spiegare a tutti qual è la nostra dimensione da un punto di vista della sostenibilità. Negli anni buoni, quando si produceva tanto, quando si produceva al massimo della capacità produttiva, abbiamo consumato materie prime naturali che sono arrivate fino a 50 milioni di tonnellate all'anno, energia elettrica per 3 milioni di megawatt ore all'anno, acqua per 10 milioni di metri cubi, abbiamo emesso CO2 per 20 milioni di tonnellate all'anno, abbiamo avuto un rapporto sociale diretto con collaboratori che portassero il cappello Buzzi Unicem di 11 mila persone. Gli elementi chiave sui quali abbiamo lavorato sono appunto l'impatto sul clima che ha la CO2, come può essere un utilizzo responsabile di combustibile e materie prime, la salute e la sicurezza dei lavoratori, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni, il rapporto con il territorio e le comunità locali. Fare un bilancio di sostenibilità, quindi rendicontare, misurare con numeri i buoni propositi, le cose che si dice che si vogliono ottenere. Innanzitutto aiuta, aiuta l'azienda in una strategia di business responsabile, quindi dobbiamo renderci conto noi che dobbiamo farlo per essere noi più responsabili. Rafforza il confronto con l'opinione pubblica, quando hai quegli impatti inevitabilmente hai delle sollecitazioni dall'opinione pubblica, quindi devi rafforzare il rapporto con l'opinione pubblica e sentire cosa ne pensano. Dà una migliore visibilità della nostra attività, aumenta il consenso sociale a livello locale e soprattutto afferma il diritto del portatore di interesse ad essere informato. Chi sono i nostri portatori di interesse? Non soltanto sono il mercato, quindi i clienti e i fornitori. I fornitori si fidelizzano, stanno con te per tanti anni e tanti decenni. Sono i territori e le comunità locali, sono gli azionisti che hanno deciso di mettere i loro risparmi di darteli per farli andare bene e sono evidentemente i collaboratori, le persone che lavorano insieme a te. Otterremo nel 2011 per il quarto anno consecutivo il rating A+, che vuol dire il massimo dei rating possibili con questo metodo e appunto presentiamo su un perimetro molto allargato, quindi su tutte le nostre aziende di tutti i nostri paesi, la stessa tipologia di numeri. Abbiamo costituito un gruppo che dal 2002 in poi si è sempre affinato e si è specializzato per evitare di avere poi i costi della rendicontazione. Non volevamo affidare questo lavoro a personaggi esterni, consulenti che venissero in casa nostra e ci dicessero che cosa fare e cosa non fare. L'abbiamo imparato, siamo andati a scuola, abbiamo imparato come si dovesse fare, ce lo siamo studiato, ci siamo confrontati, ci abbiamo messo del tempo, l'abbiamo sviluppato al nostro interno. Tutte le direzioni aziendali, ricerca, sviluppo, risorse umane, marketing, amministrazione, finanza, produzione AS, devono sapere di che cosa sono responsabili sulla sfera della sostenibilità, a chi si rivolgono, qual è lo stakeholder di loro responsabilità, quali sono i mezzi che loro hanno a disposizione per ottenere risultati e quali sono gli esiti finali, quindi gli obiettivi che hanno. Nel 2002 abbiamo fatto la prima pubblicazione in cui cominciavamo a raccogliere delle riflessioni, diciamo così, in generale sul significato di sostenibilità e su cosa il nostro gruppo potesse fare in quel senso. Abbiamo cominciato Odit già dal 2007 all'estero per essere sicuri che tutte le nazioni si mettessero un po' al passo con i nostri desideri. Nel 2010 abbiamo aggiunto anche una rendicontazione molto puntuale sulla CO2 e abbiamo deciso di pubblicare il bianco di sostenibilità insieme all'annual report, quindi è molto importante avere anche il tempismo nella pubblicazione, devi portare, devi dare l'importanza alla sostenibilità dell'azienda, tanta quanta la dai alla parte finanziaria, quindi quando tu pubblichi l'annual report sarebbe buona cosa, anche se è una cosa volontaria, pubblicare anche il bilancio di sostenibilità. Dopo tanti anni abbiamo ritenuto che potesse essere reso più fruibile a livello locale se ciascuna nazione, poi vedremo se farlo anche per ciascuno stabilimento potesse avere una rendicontazione per nazione e così è quello che faremo adesso nel 2011. Qual è il nostro approccio? Abbiamo detto prima di usare risorse interne, di avere un processo top down, quindi il commitment deve venire dagli amministratori delegati che devono scrivere una lettera ai top executives di ogni nazione spiegando che cosa stiamo facendo e qual è il processo, richiedendo la firma di una lettera appunto dai top executives di ogni nazione che assicurino la qualità dei dati che vengono trasmessi al centro, appunto la creazione di un gruppo di lavoro internazionale che sviluppi i temi e la cultura della CSR e questa impronta forte di considerare il lavoro sulla CSR come uno strumento di lavoro, proprio per migliorare le performances ambientali e sociali dell'azienda. Tutto questo ha senso se poi si traduce in un qualcosa di tangibile, abbiamo detto che si va bene, dobbiamo comunicare meglio con i sindaci e farci voler bene dai giornalisti e far bene il nostro lavoro, quindi essere più responsabili, se anche abbiamo, ed è questo il nostro obiettivo, siamo tutti molto tecnici in azienda e riusciamo ad avere i nostri, diciamo così, risultati economici soprattutto dalla riduzione costi, se abbiamo anche risultati tangibili provenienti dal rapporto di sostenibilità, benvenuto sia. La CO2 che è passata da oltre a 700, dal dato di 721 media, 721 kg di CO2 per tonnellata di cemento prodotto media gruppo a 681 è una riduzione di cui vantarsi, è una cosa buona che mi ho fatto, questo vuol dire meno combustibili, ma non vuol soltanto dire meno inquinamento, vuol anche dire meno combustibili utilizzati, abbiamo migliorato con l'efficienza energetica. Evidentemente questi numeri non si ottengono con le chiacchiere andando nei convegni che sono pur sempre molto importanti, si ottengono con degli investimenti, investimenti importanti, investimenti che partono da 4-5 anni prima per poi dare risultati sul lungo termine anni dopo. Convincere le persone che si devono fare gli investimenti è anche compito del gruppo di responsabilità sociale. C'è la possibilità, vi ho fatto vedere qualche indicatore ambientale, di migliorare negli anni il carico ambientale dei nostri stabilimenti. Il cemento dopo l'acqua è la seconda sostanza più usata al mondo, quindi non tutti si rendono conto di questa cosa, è qualcosa di piuttosto significativo anche se si dice ma io non ho mai comprato il cemento, sì è vero però l'hai usato. Non c'è strada a scuola ospedale casa costruita senza questo prodotto. La produzione di energia da fonti rinnovabili è possibile solo grazie al cemento, quindi se pensate alle dighe, alle torre eoliche, ma a tutto quello che può provenire da fonti rinnovabili, il nostro prodotto è necessario. È un materiale da costruzione sicuro, protegge la proprietà e i suoi occupanti, siamo di fronte a dei cambiamenti climatici di cui dobbiamo preoccuparci nei prossimi decenni, non stiamo parlando di domani, ma anche qui i cambiamenti climatici e le possibilità di problemi anche in Europa ci saranno ed è un qualcosa di cui dobbiamo pensare. È chimicamente inerte, quindi batteriologicamente neutrale, è il materiale con il ciclo di vita più lungo e la sua massa termica consente il risparmio energetico. Quindi questo è un qualcosa sul quale noi lavoriamo molto e cerchiamo di rendere il nostro prodotto sempre più performante e con un contenuto anche di responsabilità sociale molto elevato.